ariete la giornata non prevede particolari segnalazioni la quotidianità si snoda sulla consueta attività secondo le caratteristiche di questo periodo prevalentemente segnato da una certa incostanza e mobilità fisica e mentale tenete sotto controllo l'impulsività toro in un cielo astrale caratterizzato da espansione e positività non trovate giustificazioni a voi stessi se non riuscite a concretizzare gli obiettivi probabilmente dipende solo da voi e da un impegno un po troppo debole oltre ai piaceri c'è anche del lavoro da svolgere gemelli giornata disturbata da configurazioni astrali poco promettenti la pesantezza del vivere oggi si farà sentire un po più del solito e dovrete controllare la tendenza a scaricare verbalmente la vostra ansietà organizzate gli impegni secondo una scala di priorità cancro l'ambiente che frequentate abitualmente gli incontri e le trattative in genere sono molto favoriti in questo momento dovete approfittarne per trarre il meglio dalle circostanze nella seconda parte della giornata una luna romantica esalterà la vostra sensibilità leone alti e bassi caratterizzano le vostre giornate da un lato intense e ricche di opportunità dall'altro oppressive e stancanti sta nascendo una tendenza a rivedere molti rapporti a tessere un futuro nel quale ci sarà più spazio per le questioni pratiche e meno spazio per gli ideali vergine una luna poco generosa potrebbe farvi scattare la consueta polemica ma farete bene ad assegnare il giusto significato ad un momento così positivo come quello che state attraversando lasciate da parte i dettagli e le inezie date peso alla sostanza reale delle cose bilancia l'imprevedibilità degli eventi contrasta con l'esigenza di contenere e dare solidità alle vostre posizioni procurando un certo disagio psicologico la vostra innata ricerca dell'equilibrio sarà comunque la chiave giusta per ottimizzare le energie scorpione è il lavoro di gruppo il condividere esperienze e azioni che in questo periodo porta i massimi favori e del resto vi sentite molto attratti dalla vita di relazione dalle amicizie cercate di contenere il vostro ego la vostra permalosità coltivate lo scambio senza ricercare vantaggi sagittario vitalità smorzata per voi che affaticati da una luna poco propizia e un saturno piuttosto esigente dovete fare i conti con una realtà che richiede qualche rinuncia trasformate in opportunità questa situazione risvegliando in voi risorse mai messe in campo capricorno il vostro temperamento affidabile e rigoroso ma anche un po schivo e solitario talvolta rende complicati i rapporti amorosi concedete più spazio ai sentimenti coltivate le relazioni gli affetti e non trascurate il partner ne riceverete una benefica serenità acquario il cammino presenta ancora qualche rallentamento ma molti aspetti della vita sono in risalita e potete prendere decisioni consapevoli che finora non avevate osato nemmeno pensare rispolverate il vostro estro e l'originalità pesci la luna in giornata passa nel vostro segno e vi offre una traccia per ammorbidire le vostre percezioni emotive per allentare le tensioni e riprogrammare con positività qualche fatto che non avete gradito non contrastate troppo un amore buone stelle